Non si ferma nessuno è una grandissima idea, una grandissima iniziativa, ringraziamo Luca Bete e Penny per averci scelto ancora quest'anno come charity partner dell'iniziativa stessa. Luca con la sua determinazione, il suo entusiasmo, la sua simpatia ci aiuta a farci conoscere, ci aiuta a segnalare a tutti quanti di essere partecipi del bisogno di coloro che non possono alimentare. Penny ancora una volta grazie alla sua generosità ci donerà dei pasti completi che serviranno per portare sulla tavola chi non ha da mangiare un pasto con perfetto equilibrio nutrizionale. Noi del banco siamo estremamente grati, motivati e stimolati da questa iniziativa e continuiamo anche al nostro interno a dire a tutti noi e a tutti i volontari che ci aiutano non ci ferma nessuno.